Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Emanuele e questa è Facile e Veloce Opinioni. Oggi un video in collaborazione, ma per scoprire con chi e che tipo di video farò, aspettate dopo la sigla! Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Io sono Emanuele e questa è Facile e Veloce Opinioni. Oggi un video in collaborazione con una persona speciale, Ombretta del canale Ombretta Carmicelli. È una persona dolcissima che mi ha attirato molto per la sua sensibilità, ma soprattutto per la passione che abbiamo in comune per i profumi. Ebbene sì, io sono un'appassionata di profumi, anche se non ne compro compulsivamente. In ogni caso, proprio per queste componenti che ci hanno trovato in sintonia, ovvero la sensibilità, la dolcezza e questa passione in comune, abbiamo deciso di mostrarvi due profumi che per noi sanno di inverno. Anche per intrattenervi in modo carino e piacevole per qualche minuto in nostra compagnia. Ora passo a farvi vedere i profumi che ho scelto. Sono profumi che ho scelto sapientemente, facili da reperire in gamma permanente, nelle farmacie e nelle erboristerie. Perché sì, vi parlerò di un marchio, ovvero l'erbolario. Il primo profumo che vi propongo nella rosa dei profumi da me scelti è lilla, lilla dell'erbolario. Un profumo elegante, discreto, che dà una sensazione di pulito. Un profumo che lo vedo indosso a una donna d'altri tempi, ma anche alla donna di tutti i giorni, che vuole sembrare sempre in ordine, ma nello stesso tempo raffinata, ma semplice. Passo a leggervi le note olfattive perché sono quelle che mi hanno attirato di più. Non il fatto che, assolutamente non il fatto che lilla lilla sia stato tacciato come il dupe di alien di Terimungler. La prima nota che troviamo al primo posto è lilla. Poi troviamo una nota subito molto molto calda, ovvero quella dell'ambra e dell'abdano. Troviamo di nuovo un tripudio di fiorito nel neroli. E infine abbiamo la freschezza, con cui evapora il profumo, quindi questa sensazione di fresco e pulito data dal cedro. E quindi un profumo, secondo me, adatto a qualsiasi donna. È un profumo talcato, ma assolutamente equilibrato e non stucchevole. Cioè, che dirvi, è diventato il profumo che indosso tutti tutti i giorni. Come vedete l'ho utilizzato praticamente tutto. E la caratteristica che mi è piaciuta di più è stata il packaging con cui viene venduto una cura dei particolari che ha l'erbolario, che mi fa scegliere proprio i loro profumi. Il secondo profumo da me scelto è un profumo veramente particolare, che magari può non incontrare il gusto di tutti, ma è veramente un profumo che trovo eccezionale. Ovvero il papavero suave, sempre dell'erbolario. Lo potete, ripeto, trovare in tutte le farmacie, perché non sono limiti ed ediction. Papavero suave è un profumo caldo, avvolgente. Io lo vedo indosso a una donna davanti al cammino, tutta coperta, che ha proprio quella voglia di sentire il calore. Lo vedo proprio come un profumo invernale in assoluto. Dolce, ma non stucchevole. Dà quella sensazione di coccola, di serenità, che veramente me lo fa scegliere ogni qualvolta. Io voglio rimanere a casa, sento freddo, ed è questo il profumo quando voglio sentire proprio quella sensazione di avvolgente e di calore. E ora passo a leggervi le note olfattive. Abbiamo il primo posto, i petali di papavero, la davana delle indie, il gelsomino d'acqua e la prunella. Quindi abbiamo un fiorito col gelsomino che lo rende molto molto delicato e dolce. Abbiamo un orientale dalla davana delle indie, e poi abbiamo la prunella. È un profumo molto particolare perché non a tutti i punti piacciono i profumi dolciastri, ma questo è un dolciastro che ha un perfetto equilibrio. Quindi non è assolutamente un dolciastro che ti fa venire il mal di testa, ma piacevole. È un profumo orientale, sì, perché quando evapora lo sentite tutto questa sensazione. E sentite anche quando evapora molto molto anche il gelsomino. Che dirvi? Io questo profumo l'ho amato, tant'è vero che l'ho terminato, lo voglio ricomprare in assoluto in farmacia. Andiamo poi a vedere l'acqua profumata da me scelta. È stata una scelta accuratamente fatta sulla base di pensieri che potete fare anche per compleanni anche di adolescenti, ma soprattutto anche un pensiero che potete fare a voi. Perché chi non si ricorda le confezioni di acquolina, di crema corpo, bagno schiuma e acqua profumata? Io sì. Sulla base appunto di questo ricordo, tempo fa mi è stato regalato muschio e canna da zucchero di acquolina come acqua profumata in uno di questi bellissimi kit. Che dirvi? Anche questo, se non vi piacciono i profumi dolciastri, non è prettamente un profumo che fa per voi, ma è assolutamente delizioso. Io lo metto come profumo non impegnativo, anche se è assolutamente persistente, nonostante sia un'acqua profumata, è molto molto persistente, dà quella sensazione di anch'essa, di coccola, dell'ora del tè, del dolcetto, perché la canna da zucchero si sente come, ma è molto stemperata anche dal muschio, che gli dà quella sensazione di freschezza. Insomma, con i miei profumi che sanno di inverno, ho terminato qui. Spero che il video vi sia piaciuto, correrò a vedere subito il video di ombretta, mi raccomando, vi metto il link del suo canale sotto impressione, e correte a vederlo anche voi. Spero di avervi dato qualche minuto in piacevole compagnia, se sì, mi raccomando, like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per i nostri canali, se volete essere informati su tutte le uscite dei nostri video, e soprattutto non dimenticate di starmi bene!